Nuovi arrivi per l'Arezzo di Mister Dal Canto. A 24 ore da raduno, infatti, la società sportiva Maranto ha ufficializzato nel giro di poche ore l'acquisto di nuovi 11 giocatori. Ad arricchire la Rosa Maranto sono così arrivati l'attaccante italo-brasiliano Matteo Bruno Rissandri dal Parma, classe 1994, lo scorso campionato 23 reti in tre partite col Villa Biagio in Serie D e il trequartista Cristian Chedi, italo-albanese dalla San Giovannese, classe 1996. Ad Arezzo arriva anche il centrocampista ganese Amidu Salifu, 26 anni, in prezzito dalla Fiorentina. E sempre in prezzito dalla Viola sono anche arrivati Luca Mosti, difensore, Pierluigi Pinto, difensore centrale, entrambi, classe 1998. Nige Fallu, classe 1999, difensore centrale del Gambia, arriva in prezzito ad Arezzo dal Genoa. Abdul Basila, del 99, anche lui ganese, centrocampista del Carpe, invece a titolo definitivo. Mattia Perzano, attaccante del 96, in prezzito con diritto di riscatto, arriva dal Lecce. Nicolo Bruschi, attaccante ventenne, a titolo definitivo dal Sassuolo. Matteo Fragassini, difensore esterno del 2000 dal Perugia. Ed infine il coreano Koe Son Yong, attaccante del 1998, arriva a titolo definitivo, anche lui dal Perugia. Arriva in casa Maranto, a titolo definitivo, anche Riccardo Melgrati, portiere, classe 1994. Melgrati è cresciuto nelle giovanili dell'Inter e ha alle spalle 90 presenze in Serie C. Tante dunque le giovani speranze per Mister del Canto, di cui ben 7 su 11 under. Ma intanto oggi è il giorno del raduno per gli Amaranto, fra testa e campi dell'Olmo Ponte. In programma per questa sera la cena, organizzata da Orgoglia Maranto, per salutare così la squadra. Domenica, invece, partenza per il ritiro di Bagni di Romagna, dove inizierà la preparazione vera e propria dal prossimo lunedì. Gli allenamenti si svolgeranno nella vicinissima San Pietro. La squadra resterà in Romagna, sino alla vigilia o all'antivigilia della Coppa Italia, in programma per il prossimo 5 agosto. A chi manca, invece, ancora una casa è l'Arezzo Calcio Femminile. Su questo fronte c'è però l'impegno dell'assessora allo sport, Tiziana Nisini. Noi vogliamo, noi, amministrazione comunale, dargli una casa, per cui va trovata la quadra, gli va data una struttura adeguata per il campionato che andranno ad affrontare. Per cui ne parlerò stasera con la società.